Abito in un caffè, per questo ho molti amici. Dicono che la scuola sia un'opportunità per me, ma non mi piace. Non mi impegno molto, faccio solo finta. I miei genitori non sono di nessun aiuto. Non sanno neanche che classe faccio. So come si fanno i bambini. So tutto sul sesso. Per il resto sono una schiappa. Per la prima volta in vita mia sono innamorata. Domani si vedrà.